Non c'è nessun calcolo, nel senso che se noi avessimo dovuto fare calcoli, potevamo farli anche da dentro al Movimento 5 Stelle, facendo i franchi tiratori. Addirittura oggi in conferenza stampa abbiamo dichiarato che noi saremmo pure disposti, e ci mancherebbe altro, a votare con quelli che erano i nostri ex compagni di partito in questo caso, cercando una trasversalità piuttosto ampia rispetto a quello che deve essere l'elezione più importante dei prossimi sette anni. Ci sentiamo dire dei venduti, ma è una cosa indegna.